Blanca Chignanezza, allora tu in qualche modo sei un po' la trascinatrice di questo gruppo. Coach Sabatelli si fida di te, sei un po' una garanzia. Come ti è sembrata questa gara? Un commento a caldo? Sei soddisfatta innanzitutto? Sì, sicuramente molto soddisfatta. È una partita molto intensa fin dall'inizio, ma siamo state molto bravi. Abbiamo lavorato in squadra, quindi siamo riusciti a portarci questa partita a casa, stando a casa. Ecco sì, poi tra l'altro qui all'arena con una spettacolare continente di pubblico, i tifosi si fanno sempre tanto sentire. È stata una partita bella, sostanzialmente Ragusa non è mai entrato in gara. Avete fatto veramente un'ottima gara, tra l'altro anche con un gioco sostanzialmente pulito, lo possiamo dire. Beh, penso che la chiave di questa partita sia stata in difesa, perché abbiamo lavorato molto bene in difesa. Siamo concentrati soprattutto in difesa, quindi in attacco è stato tutto molto più facile. Questa squadra ha acquisito negli anni tanta maturità. Secondo te è un po' questo il fattore che vi sta facendo guadagnare così tanto? Sì, sicuramente ogni anno è un anno di esperienza, quindi cresciamo tutti insieme soprattutto. Che cosa ti aspetti dal campionato e dalla prossima sfida contro il Sesso San Giovanni? Sicuramente portarci a casa la seconda partita e vediamo a dove ci porta questa squadra, che può fare tanto secondo me.